È morto durante il viaggio in ambulanza da Codevigo al pronto soccorso pediatrico di Padova. Francesco Paschetta, sei anni, era stato caricato in codice rosso sul mezzo del 118 di Piove di Sacco. Una volta arrivati a casa del Piccolo in località Conche, i sanitari lo avevano trovato senza conoscenza a causa di una severa crisi respiratoria. Quindi la corsa a Padova, dove l'ambulanza è arrivata alle 5.50 del mattino. Dalle informazioni fornite dall'azienda ospedaliera di Padova, da mercoledì 27 aprile Francesco era risultato positivo al SARS-CoV-2 a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. È stato richiesto un riscontro diagnostico, il magistrato ha disposto l'autopsia. Il Piccolo avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 11 maggio.